L'Erici Sport, attivissimo sul territorio, tantissimi vostri ragazzi che vengono a notare del vostro complesso. Che 2017 è stato per voi? Noi abbiamo più di 100 ragazzi che giocano a pallanuoto e in più abbiamo anche una divisione che si occupa del nuoto di fondo, quindi il nuoto master e il nuoto famoso come la Coppa Byron. Abbiamo in più 7 squadre che disputano campionati di pallanuoto sia maschili che femminili. Si sono comportati bene i vostri ragazzi quest'anno? Diciamo che pur nella difficoltà, soprattutto economica, che abbiamo in questi ultimi anni, cerchiamo di fare il massimo e di mantenere comunque le posizioni medio-alte nelle classifiche in cui partecipiamo. Ma state già lavorando a un grandissimo evento, la Coppa Byron, appuntamento il 27 agosto per una manifestazione davvero affascinante. Sì, siamo alla 36esima edizione e quindi ha sempre più successo questa manifestazione, che è una gara di nuoto di fondo di 8 chilometri. In pratica l'assembramento avviene all'Erici, l'anno scorso erano 312 i nuotatori iscritti e sono arrivati quindi con il traghetto a Porto Venere, si gettano in mare a Porto Venere e dopo due ore di nuoto arrivano all'Erici, con grande festa ovviamente nella piazza di L'Erici. Grazie. Grazie a tutti.